Luigi Palamara, quest'oggi seguiremo la presentazione di un libro dal titolo ecco il titolo lo facciamo dire direttamente all'autore Reggio Calabria dintorni, viaggio nella memoria storica dell'area dello stretto ecco un titolo abbastanza lungo che vuole raccontare che cose poi all'interno? vuole raccontare la storia del territorio regino però inteso nel senso antico del termine quindi un territorio unificato dalla cultura, dalla storia, dalla lingua siamo in bovesia nel piena area ellenofona racconta quindi questo territorio che va dalla foce del Petracio quindi dalla piana di gioia sino alla bovesia, sino all'area a Palizzi naturalmente partiamo dalla preistoria, anzi addirittura dal racconto dei miti, delle leggende sino ad arrivare alla modernità, naturalmente si tratta di un'opera divulgativa che intende per l'appunto conoscere, comprendere e soprattutto valorizzare quella che è la plurimilenaria storia di questo territorio ecco un territorio poi tra le altre cose ricco di cultura la bovesia ecco a Natale Zappalà come è nata l'idea di scrivere questo libro? è nata innanzitutto dal mio percorso di studi, mi sono laureato in storia greca e devo dire che quando ho iniziato il mio percorso di studi universitario mi sono accorto che effettivamente io e tutti noi residenti conosciamo ben poco della nostra storia per cui è nata questa disperata esigenza quasi di voler valorizzare appunto questa storia raccontandola all'interno di un libro per quanto è possibile perché poi veramente se dovessimo raccontare per intero la storia del nostro territorio servirebbero selve, cataste di libri per poterla raccontare ecco un libro adatto a chi soprattutto? un libro che sicuramente si presta a qualsiasi tipo di lettore io mi auguro però che siano soprattutto i giovani a documentarsi attraverso questo libro perché è pur vero che innanzitutto se noi non conosciamo le nostre radici non possiamo apprezzare le radici altrui e in secondo luogo che se non sappiamo chi siamo, chi eravamo non possiamo sapere cosa vogliamo dal nostro futuro, dubbiamente bene, per il resto seguiremo questa presentazione ufficiale che a breve dovrebbe iniziare grazie a Natale Zappalà grazie 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 grazie